Un'alimentazione sana è un formidabile veicolo di benessere e felicità ed un italiano su tre ne è già consapevole. Per questo abbiamo lanciato Blue Taste, proponendo un'offerta di healthy food che nasce dallo studio delle Blue Zone, i luoghi del mondo dove la popolazione vive più a lungo. Grazie alla collaborazione con chef e nutrizionisti selezionati, abbiamo dato vita a una cucina innovativa che mescola le tecniche più moderne con i più recenti studi medici per comporre piatti sani e con valori nutrizionali superiori alla media. In tre parole siamo healthy, gourmet e sustainable. L'healthy food non è più una nicchia di mercato, ma un settore in forte espansione, tanto che si stima una crescita del 45% per il mercato delle Bulls nei prossimi tre anni. Nel nostro primo esercizio abbiamo aperto uno store in Centramilano e due in franchising, servendo più di 25.000 clienti e generando ricavi per più di 100.000 euro. Inoltre abbiamo consolidato ottimi risultati in termini qualitativi, con il 95% di recensioni positive sulle principali piattaforme di delivery. Abbiamo inoltre avviato la collaborazione con alcune imprese, dando vita a un'offerta business to business per le aziende che hanno a cuore la salute dei propri dipendenti. Grazie ai nuovi fondi svilupperemo il nostro modello ibrido, nel mondo B2C con nuovi flagship store in location premium, in grado di far vivere un'esperienza immersiva dalla mattina alla sera. Inoltre rafforzeremo i servizi per il B2B, lavorando in maniera ancora più personalizzata con le aziende che ci sceglieranno come food provider. Questo modello lavora in maniera sinergica, offline nei nostri store e online dove lancieremo un e-commerce che venderà i nostri prodotti. A questo punto non ti resta con irti e la community di Bluetace e diventare il nostro socio. Potrai contare su un prodotto innovativo di alta qualità, un format scalabile che promette cresciti sostenibili, un mercato in forte espansione che assegonda le nostre ambizioni, un team con grande esperienza, tanta passione e una grande voglia di emergere, un trattamento fiscale agevolato che ti permetterà di deterrare il 30% del tuo investimento. Investi sul benessere sostenibile. Investi su Bluetace. Investi su Bluetace